Ciao, mi chiamo Margherita e io e le mie compagne siamo nel cortile del Dicevunte Bello, a Lille. Siamo nella sezione internazionale italiana e ora ve la presentiamo. Io ho fatto questa sezione perché sono nata in Italia e mi piacerebbe approfondire la lingua e la cultura italiana. Io mi chiamo Manon e ho chiesto di fare la sezione italiana perché mi piace la lingua italiana, la cultura italiana e la lingua italiana mi interessano molto. Ma mamma è siciliana e la famiglia anche, quindi ho chiesto di approfondire la lingua italiana per poterare meglio comunicare con loro. Io ho chiesto la lingua italiana perché ho già conosciuto la lingua italiana e la lingua italiana, ma volevo trovare un po' l'aspetto l'aspetto litera, perché mi interessava. Ciao!